La vorrei sentire tutta e vorrei stringere le vostre mani uno per uno, ma veramente per ora, come è giusto, andiamo dovunque, parliamo con tutti, perché questo dobbiamo fare per l'interesse del Paese, non solo del territorio e della Sicilia. A ragione Magda ci sono 20 giorni e in questi 20 giorni dobbiamo fare una grande operazione verità. Dobbiamo ricordare a tutti quelli che sembrano esserselo dimenticati, purtroppo anche i grandi giornali sembrano esserselo dimenticati, chi ha governato. Anche durante il governo Monti, che il Partito Democratico responsabilmente ha appoggiato, noi abbiamo proceduto sotto ricatto del centrodestra di Perlusconi. Vi ricordate la prima volta che Alfano ha disertato un incontro, era da poco in funzione al governo Monti, quello è stato subito il segnale, il segnale del ricatto, non del dibattito per affermare le proprie ragioni. Poi, certo, non dice questo anche del suo, pensate al Ministro Fornero e alle lacrime, quante volte abbiamo pianto noi quelle lacrime iniziali della Ministra Fornero. Ma che Paese è questo, Dario? Un Paese dove alla RAI si va in pensione a 65 anni, dovendo solo scrivere. E invece il meccanico a 67, 68, 70, ma poi dopo l'unico, è un'importante di una lacrime. Tutti i corsari si è impegnato, ci impegniamo tutti degli esodati, perché veramente quello che non si può fare è giocare con la vita delle persone, cioè se tu ti aspettavi di andare in pensione, poi non vai in pensione e sei fuori dall'azienda. Non è una situazione di assistenza questa, è un atto dovuto. Dividiamo e separiamo l'assistenza dagli atti dovuti. Allora, hanno governato loro, posso dire solo una cosa, perché tantissimi mi chiedono, ah bene, siamo contenti che sei in lista con noi, ma forse era meglio quando stavi a Regno S24. Mi posso dire che governano loro anche alla RAI? Il governo dei tecnici, signori, su nove che decidono il Consiglio dell'amministrazione, quattro, quattro, chi sa di assemblee capisce che vuol dire quattro su nove sono nominate da Berlusconi, uno da Cassini, sono cinque, poi c'è uno del Tesoro, Grinoli, e sono sei, poi c'è un Presidente che viene dal Banco Italia e sono sette. Bersani, il PD, il centrosinistra, è l'unico che non ha scelto i suoi a cui raccomandare gli amici, ma ha scelto due candidati, che sono Benedetta Tobaggi e Gerardo Colombo, candidati delle associazioni. Quando vi chiedete perché non ce l'hai fatto più dopo una lunga resistenza, datemi una risposta, perché non ci volevano. Questo è un punto. Il punto è a capo. Quando Bersani dice che dobbiamo fare la legge sul conflitto di interessi, dobbiamo fare la riforma della RAI e il governo della Gasparri, ha ragione. Senza questo non abbiamo mai avuto l'informazione che non è importante, ed è importante quasi come il lavoro. Finisco. Quello che ci ha lasciato questo dieci anni di liberismo esasperato e di governo della destra, lo sapete, lo leggete sul giornale, ne avete ben chiaro, più di 3 milioni di disoccupati, 4 ragazzi su 10, quasi 4 ragazzi su 10 che non trovano lavoro e 60 mila universitari in meno, in meno tutto il mondo punta sulla ricerca e sulla università. E poi soprattutto un enorme numero di precari con i contratti in scadenza e con i contratti in scadenza senza nessuna prospettiva ad oggi di avere un contatto nuovo. Questo il governo Bersani rischia di ereditare e per questo è molto importante che abbia la maggioranza salda perché se no il giorno dopo, ho spiegato con tutti, il giorno dopo cominceranno i ricatti e un governo sotto ricatto è un governo che ha grandi difficoltà ad affrontare le cose giustissime che voi dite. Quando voi parlate, io sono molto colpito, Dario, dal modo concreto con cui questi territori, io quando sento territori sono un po' preoccupato perché effettivamente il deputato, il senatore non deve avere vincolo di mandato, deve fare l'interesse della nazione, ci credo in questa cosa veramente, non è che può essere o fa finta sempre di essere teleguidato dalle domande, ma lo sforzo che qui hanno fatto è uno sforzo completamente diverso, non è una serie di richieste messe una dopo l'altro tanto ce le dovete dare, non come quelle delle quote latte e leghisti, avete visto che abbiamo pagato tutti per i favori fatti a leghisti con le quote latte, ma sono delle richieste intelligenti, turismo, assetto idrogeologico, beni culturali, pensate da Tacefalu, ieri era monreale, c'è il Duomo, a Paverbo, ovviamente, turismo, beni culturali e poi naturalmente credito alle piccole imprese, io voglio dire che finisco su questo, finisco completamente e lascio a Franceschini una cosa, c'è tutto questo polverone sul Monte dei Paschi di Siena, allora vabbè, è possibile, un grande partito che è sempre stato al governo a Siena, una città che è finanziata, tutti lavorano per il Monte, sono state al palio, al palio, le contrate però ci può essere una commissione, le fondazioni, quello che vuole, ma se voi guardate i giornali di oggi, ieri, scoprirete dopo i titoli che si parla di altri, si parla di verdini, si parla di verdini, si parla dei banchieri che Monti ha messo in lista, si parla di altre banche che sono piene come il Monte dei Paschi di prodotti derivati, la grande truffa del capitalismo finanziario senza regole, pensate, poi si parla di Banca Italia, forse c'è anche un attacco a Draghi, ma questo lo trovate nelle pagine interne, il titolo sembra sempre il solito, il sono tutti uguali, non è vero, non siamo tutti uguali, diciamolo agli elettori e spieghiamo le differenze e le responsabilità di ciascuno. Una sola cosa sul credito, nel New Deal dopo la grande depressione che purtroppo assomiglia a questa crisi, in America c'è una differenza tra banche d'affari e banche di deposito, voi lo capite che se si facesse questo, se la banca di deposito vivesse solo del credito non potrebbe chiedere il 9 o il 10% o addirittura non darlo a nessuno, le banche alle quali i nostri imprenditori devono chiedere il credito non possono essere quelle che giocano dei derivati e poi le magari devendano agli enti locali. E ricordatevi che sono tutte cose che sono nel programma per il centro-sinistra e di Persano. Grazie.